Addio figlio, porti con te sogni e speranze. Sarà un emarginato, lo uccideranno. Come? Sarà un dio per loro? E se un bambino sognasse un destino diverso da quello che la società gli ha assegnato? E se aspirasse a qualcosa di più grande? Mio figlio era sull'autobus. Ha visto quello che ha fatto Clark? Tu sei la risposta alla domanda siamo soli nell'universo. Posso continuare a fingere di essere tuo figlio? Tu sei mio figlio. Devo credere che sei qui per un motivo. E anche se dovessi metterci tutta la vita, lo devi a te stesso, scoprire questo motivo. Come trovare qualcuno che cancella le proprie tracce da una vita? Per alcuni è stato un angelo custode. Per altri è un fantasma, sempre fuori posto. Darai agli abitanti della Terra un ideale per cui battersi. Si affretteranno a seguirti. Vacilleranno. Cadranno. Ma col tempo si uniranno a te nella luce. col tempo li aiuterai a compiere meraviglie. Credi che tuo figlio sia al sicuro? io riuscirò a trovarlo! Mio padre credeva che se il mondo avesse scoperto chi ero, mi avrebbe rifiutato. Era convinto che il mondo non fosse pronto. Tu cosa pensi? Cosa significa la S? Non è una S. Nel mio mondo significa speranza. Beh, qui è... una S. Che ne dici di... su... Scusami. Ci stanno ancora venendo dietro? Sì. C'è solo un uomo? Ci sta guardando? Sta tenendo solamente una mano sul volante? Quando senti un rumore che somiglia a uno sparo... Parti. Sei geniale. Di recente abbiamo scoperto l'esistenza di un'organizzazione criminale internazionale con legami con degli ex-nazisti. Correvoce che abbiano una bomba atomica. Dobbiamo per forza lavorare insieme per infiltrarci nell'organizzazione. Vi lasciamo a fare conoscenza. napoleon solo. La gente più... operativo della CIA. Ilya Kuryakin. KGB. Il più giovane a entrare è il migliore dopo tre anni. L'America si mette a fare squadra con la Russia. Potremmo vedercela un tantino brutta. Il fatto è che lavoro meglio da solo. Anch'io lavoro meglio da solo. Ok. Allora ti puoi accodare. Come ha avuto l'invito alla mia festa? L'ho rubato. Quindi è un ladro. Spero che indossi la maschera. A volte. Ma non quando sto rubando. Non sei un fenomeno sulla questione delicatezza, vero? Starà così per... venti minuti. Non toccare. Non costringermi a metterti sulle mie ginocchia. Vuoi fare la lotta? Non ho detto questo. Si va? Avanti! Aspetta, cowboy! Come agente speciale non è una giornata speciale, eh? Ma queste appartengono a te o a me? Sta arrivando! Chi è? Tu devi essere nuovo. Quello è Bruce Wayne. Signor Wayne! Clark Kent, Daily Planet. Cosa ne pensa del bat vigilante di Gotham? Da voi i diritti civili vengono calpestati. Si vive nel terrore. E lui si crede al di sopra della legge. E Daily Planet che critica che si crede al di sopra della legge... è un po' ipocrita. Non le pare? Considerato che quando il vostro eroe salva un gattino, scrivete un pane girico... su un alieno... che potrebbe ridurre tutto in cenere. Gran parte del mondo non condivide la sua opinione. Forse la Gotham City che è in me. Abbiamo dei brutti trascorsi con gli squilibrati vestiti da Clau. Ragazzi? Bruce Wayne incontra Clark Kent! Ah! Adoro! Adoro mettere insieme le persone! Come andiamo? Lex. Salve, ciao! Lex è un piacere... Ai! Wow, che bella stretta! Meglio non attaccare briga con quest'uomo! Sa qual è la bugia più antica d'America? Che il potere può essere innocente. Vuoi entrare in guerra? Il bastardo ha portato la guerra... da noi. Sai che non puoi vincere. È un suicidio. La più grande sfida tra gladiatori della storia del mondo. Il figlio di Krypton contro il pipistrello di Gotham. Lei è psicotico. Quattro sillabe valide per ogni pensiero inadatto a menti ristrette. È ora che impari cosa significa essere un uomo. Sta giù! Se l'avessi voluto, saresti già morto! Se l'uomo non uccide Dio... ...lo farà il diavolo! Che cosa hai fatto? Oh, cazzo... Lei è con te? Credevo fosse con te. Dobbiamo essere pronti. Tu, io, gli altri... C'è un attacco in arrivo... ...da molto lontano. Non è in arrivo, Bruce. È già qui. Gli altri... Dove sono? Arthur Carey... Aquaman. Tocca a lui. Parte del corpo organico e biomeccatronico. È un cyborg. Forse dovresti muoverti. Barry Allen. Chiunque tu stia cercando, non sono io. Sei Batman. Hai detto che l'era degli eroi non sarebbe tornata. Deve tornare. Quali sono i tuoi superpoteri? Sono ricco. Quali sono i tuoi più sengono. Cosa è? Senale... Si va? Sono felice che sai fare di nuovo il gioco di squadra. Vestito da pipistrello. Mi piace. Magari è temporaneo. Su, 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 su! Dove, Benji? Ok, va dritto. Dritto, dritto, dritto. Adesso a destra. Adesso? Sì, a destra. Sicuro? Sì, sì. No, a sinistra, sinistra. Avevo lo schermo bloccato. Che stai aspettando? Sto per saltare da una finestra. Ah, scusa, auguri. Non può esserci pace senza una grande sofferenza. Più grande è la sofferenza, più grande è la pace. Sta arrivando. Sta arrivando. E le tue mani si copriranno di sangue. Questa missione è della CIA. Fa il mio uomo. O non va nessuno. Lei usa il bisturi. E io preferisco il martello. È una cattiva idea. Ne abbiamo mai avuta una buona? Sei sincero. Tutta. Tu non capisci in cosa sei coinvolto. La CIA è stata infiltrata. Non mi fido di Walker. Non mi fido di nessuno all'infuori di voi. Dobbiamo fare da soli. Fa di testa tua e lui è autorizzato a trovarti e ucciderti. È lavoro. Nessuno si muova! Senza rancore. Peggi l'auto. Quando scadrà il tempo, Ethan Hunt perderà tutti quelli che ha amato. Accettalo, Ethan. Hai perso. Ciò che è fatto è fatto. Ciò che è fatto è fatto. Quando noi diciamo che è fatto. Ethan, dove sei? Su un elicottero. Sai pilotare un elicottero? Si parte. ... ... ... ... ... Grazie a tutti